benvenuti a tutti quanti alla prima puntata di libritudine uno spazio dedicato alla recensione di libri riviste ringrazio per questo la libreria 101 di bari il primo libro che va da recensire e di per luigi spagnolo contro il calcio moderno un libro che racconta l'evoluzione del mondo del pallone dagli anni settanta si nei tempi moderni ossia dal calcio della domenica alle ore 14 e 30 sino al cosiddetto calcio spezzatino e dei nostri tempi perché è successo tutto questo perché da essere il tifoso al centro del calcio invece sono diventati gli sponsor i calciatori vivi i stadi di proprietà quindi tutto il mondo business ha sostituito lo spettatore che adesso lo può vedere tranquillamente può vedere lo spettacolo la partita la può vedere tranquillamente seduti sul divano e non più seduti sui gradoni dello stadio fatti di cemento quindi è un'evoluzione che poi va pari passo anche alla tecnologia va pari passo anche dall'evoluzione della nostra società quindi un libro sociologico un libro anche che attento alla fenomenologia e e al cuor pulsante all'attenzione del cuor pulsante del tifoso che era tutto era era tutto proteso verso la domenica degli anni settanta tutta la settimana era era un rito una preparazione per la partita della domenica invece adesso si è perso anche questo perché le tante trasmissioni tanti processi ricordiamoci il processo dell'unità di biscardi che è stato il primo format dedicato a diciamo così a rendere calcio come una una base per un diverbio una specie di tribunale per condannare e assolvere momenti tifosi i rigori quindi è stato il primo germe che ha poi scaturito e sino alle cosiddette tavole rotonde della domenica sera dove il calcio è visizionato e si perde la bellezza e anche le seriorità anche la genuità del pallone quindi un libro che va a toccare questi argomenti un libro piacevole importante perché va anche smascherare i cosiddetti pregiudizi che si hanno verso il mondo ultras come tifoso evoluto perché è nato il mondo ultras perché calcio ultras è un connubio che va assolutamente diviso snaturato fino ad arrivare a degli stadi dove non solo il covid ha desertificato ma addirittura si rendono stadi più piccoli si sviluppano si pensano si creano si costruiscono stadi di medie di media densità di media capenza perché è importante che alla fin fine il calcio diventi uno spettacolo non più uno sport uno sport nato dalla passione del tifoso pier luigi spagnolo contro il calcio moderno lo trovate in libreria alla libreria 101 di bari alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti